Ciao a tutti ragazzi sono SilverDix in questo nuovo video, sono Silver, non sono SilverDix In questo nuovo video sono qui a giocare a Minecraft in questa nuova custom map che non è di merda allora Ragazzi questa custom map si chiama le 30 prove per morire Questa mappa è ispirata a una mappa chiamata 11 giorni per morire, 11 settimane per morire, 11 modi per madonna non so più leggere È stata creata da Z49, ah no no da Z49, dovete scusare, dovete scusare E niente ci sono ossa, scheletri, allora questa mappa consiste nel morire Livello 1, allora, questo livello 1, no qua ci sono le aiuti, ok, già la sensibilità se ne va puttane Niente questo livello 1 non c'è, aspetta che leggiamo Eh niente è caduta, una caduta, devo costruire qualcosa, in pratica devo morire, devo suicidarmi in qualche modo Allora, allora io ho pensato, l'unico modo per morire qua è fare, cioè, cioè è scritto Cazzo non so più parlare, non so più fare video, merda Guardate quello che sto facendo e capite, basta No, ho pure sbagliato, Dio buono Ho sbagliato perché mo ci sono arrivato di logica Niente, in pratica devo cadere ragazzi, devo cadere e farmi tanto male, fino a quando non muoio Questo sarebbe lo scopo Che divertimento Non riesco con questa sensibilità Cominciamo bene, la prova più brutta che possa esistere, guarda Ah, che palle Guardate ragazzi, proprio il divertimento Che palle di mappa Ce l'ho fatta Beh è caduto da un posto altro, cioè, ma alto, alto Acqua Questo dovrebbe essere semplice, no? Dovrebbe essere semplice, no? Tipo affogare nell'acqua così Ok, che cazzo ho combinato Eh, sì Affoghiamo sotto acqua Che divertimento Oddio, oddio Il mio personaggio se ne è andato a fanculo Oh, oh, eccomi qua Ciao a tutti ragazzi, ciao No, no, no Sto affogando, sto affogando ragazzi Sto affogando, sto per morire Aiuto Non voglio morire così Pensa, devo morire per 30 volte Cioè, guardate un po' Moriamo, moriamo Sì, ma domani Mi dà un fastidio che nemmeno immaginate morire Cioè, mi dà un fastidio Madonna, l'odio Perché devo morire? Lava full Cazzo è la lava C'è una scatola, c'è Numero 3 Dio Cazzo è Oh Ah, devo scintare la lava Oddio, oddio Eh, si Aspetta, aspetta Che è molto difficile Cioè, sta scritta davanti con gli Avevo presa la Sensibilità di merda Avevo presa la lava No Sì, vabbè, raga Non so proprio bravi Non so proprio bravo a morire Cioè, faccio Poi, quando invece devo morire, no Cioè, quando dice No Non è giusto Non è giusto Quando invece non mi serve Non mi serve Non mi serve morire Comunque sto morendo Ah, là Finalmente Ce l'ho fatta Quando invece non mi serve morire Morire, morio sempre Antigravità Bisogna notturna Che cazzo è? Cos'è? Oddio Oh, il numero contrario Si è sminchiata No, si è sminchiata la cosa Qua, la casa Oddio Bello 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 Questa mi piace Questo mondo mi piace Dai Sì, però sto Non capite quello che sto facendo In pratica Sto cadendo Ecco, sono morto Cadendo Redstone Contra Contraption No, non lo so cosa significa Contraption Scusate il mio Il mio scarso lingue Il mio scarso inglese Il mio inglese è base Comunque Dovrebbe essere qualche cosa Con la pietra rossa Allora Distributore Distributore Allora Io ho questa mappa L'ho scaricata Che me l'hanno consigliata Ma non ho passato direttamente il link Quindi non so bene bene Se bisogna fare Però Mi sa che ho sbagliato Allora Devo creare qualcosa Che funzioni Con la pietra rossa Quindi Così E mi spari Dalle frecce Giusto? Questo dovrebbe essere la cosa Perché io mi dovrei Uccidere con le frecce Non so come però Non so come Come cazzo funziona? Aiuto Ah Aspè 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 Non è che Forse funziona così Oh E la leva non c'è No Aspetta Tipo Non lo so usare La pietra rossa Ragazzi Dovete scusarmi Scusami No Non lo so usare La pietra rossa Molto Non lo so usare proprio Mamma mia No Non sono proprio bravo Con la pietra rossa Quindi dovrei fare Qualcosa tipo Così No Sbagliato pure Oh io clicco Vabbè Ma cosa se ne va a minchia E dovrei spararmi delle frecce Come si fa Come si fa Ah Se non c'è la pietra rossa generante Come posso io Fare questo E le frecce Eccole qua E ora dovrebbe essere qualcosa di più semplice Giusto No Uh Però solo una me l'ha sparata Bastardo Ok Ora Qualche modo No Perché così si spe Come cazzo Come cazzo si usa Di obono Come cazzo si usa Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto No No Non lo so proprio usare ragazzi Però non ho idea Nella pietra rossa Come cazzo si usa Allora Ehm Facciamo così Il blocco di ferro Utilizziamolo Visto che ce l'abbiamo No Ho sbagliato Ho sbagliato Perché Perché ho sbagliato Perché ho fatto Sta minchiata qua Però dovrebbe funzionare Lo stesso Oddio Non so proprio Usare la pietra rossa Che schifo Cioè io voglio Faccio pure le serie su minecraft Ci rendiamo conto Questo è il fatto No Come cazzo si usa Ok Una l'ho sparata Ok Forse ho capito come fare Uh Ho trovato un mudo Mamma mia Cioè ragazzi No No Cazzo Merda di sensibilità Dai che si ricupra la vita Nemmeno me l'ha colpito Ok Me l'ha colpito No Perché spacco pure la pietra rossa No ragazzi Scusate Nei commenti se qualcosa Insultatemi Però Però io devo capire Come cazzo funziona Sapete Ha pure rimbalzato Oddio Rimbalza Rimbalza La freccia Rimbalza Quindi se la sparo sul ferro Rimbalza Sono morto The ball of fire Che cosa è qua Cosa devo fare Aspetta Non lo so Non lo so nemmeno questa Aspettate Merda Cos'è successo No Cosa ho fatto No Cosa ho fatto Oddio Cosa ho fatto qui Lo prendo come L'ho superata Questa prova Ho superato La prova ragazzi Però non si fa così Ok Non si faceva così Proprio No ragazzi Non l'ho proprio capito Non so morire Guardate Cos'è questo L'albero trappola Cos'è L'albero Trappola Cazzo Spacchettiamo l'albero Cioè Spacchettiamo l'albero Spacchettiamo Oh oh duro come lei Cioè non lo so Cosa cazzo devo fare Aiuto No io certe cose Non le so fare Oddio Cazzo Ah no Devo morire È vero È così che si È così che si dovrebbe morire Giusto Anvil Cosa cazzo è Anvil È l'incudine Giulio L'incudine Sì Il ferro L'incudine Sì Ah vabbè Questa è facile Dai raga Questa è facile proprio Faciluna Che divertimento proprio Però devo spacchettarlo subito Spacchettarlo Perché ti devo spacchettarlo Qua intanto mi arrivano messaggi Non rotti i coglioni Le persone Madonna Aspetta Ok ok Prima che si rompe tutto Prima che si rompe tutto Sono morto Bello il rumore che fa Ma è morto così The void bed Il letto Il letto Letto caduta Che cazzo significa Aspè Aspè Per cadere fuori dal mondo Con il letto Come cazzo fa Oddio Che sensibilità Non c'è il coso Per mettere la notte Cioè Night Tonight Tonight Andiamo Non lo so Notte Non lo so Che cazzo Oddio Cazzo è Oddio Come cazzo ho fatto Teresasportami qua Ui U Forse per questo Il letto caduta No vabbè Vaffanculo Nether Amincia Che c'è Entra il nether No vabbè Devo andare nel nether No raga No raga Che cazzo è quella Cosa là in fondo 22 Che cazzo è No che palle Dove andare nel nether L'odio L'odio Sai che non so più Fare il portale Ci sono queste buzioni Qua Ah Ho detto Non si accende più Minchia Che palle Andare nel nether Mamma mia Ma che palle Caricamento del terreno Eccomi qua Oddio Minchia Voglio Non voglio morire Voglio morire Con stilato Prima di tutto Ci prendiamo un po' Di quarzo Perché ci serve Oddio come scava veloce Sto piccone Che cazzo è 5 danni per colo Oddio No bellissimo Come scava veloce Guarda Ma neanche in creativa Cioè Oddio Bellissimo sto piccone No vabbè Oddio Oh Oddio Che volo che ho fatto Che volo Cioè ha scritto però Salto potenziato Land Tu non sei Non sei finito qui No non finì finito Che cazzo significa Non so più leggere Ragazzi Non so più leggere in inglese Mi sa che mi devo rifare Un po' di cose qua Comunque Ah Ma devo fare gli occhi Minchia Mai li ho fatti Ah Si faceva verga E perla Giusto Spero che mi ricordi No no Ehi Non mi ricordo più Un cazzo Di come si faccia Questi portali di merda Mamma mia Che cosa è successo Mi sono trovato dentro Il portale Senza sapere niente Ah vabbè In pratica Qua devo trovare Il drago Qua devo cadere giù Oppure cado Cado giù Cioè non lo so Io sto minando a minchia No quando non trovo il buco Ok ecco Eccoci ragazzi In superficie Ora devo morire Ma che cazzo Ma per chi mi fa fare Queste morti Via 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 Morti 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 Sessantacinque punteggio L'incidente con l'arciere Cioè che cazzo Oddio Per di tutte notte Non vedo un cazzo Arco Freccia Ah sai che cazzo Dove fare Ah ma sono a freccia infinita Ah Aspermi Devo autochillare Ma il cazzo lo faccio Aspermi Ma il cazzo lo faccio Forse No devo trovare Qualche cosa Che rimbalza No Asper Asper ma se io La lancio In alto Qua la ricade Giusto Asper asper Proviamo No Aspetta Forse devo fare piano No Aspetta Non so buono No no Aspetta Ecco Ecco No Arriva sto lì Aspetta No non mi ha preso Si ragazzi Me lo ricordo In pratica stamattina Ho giocato a minecraft A scuola Perché sono un coglione Ho giocato con I miei Bff No Ho giocato con i miei Compagni a scuola E ho scoperto questa cosa qua Diciamo Cioè diciamo che Ci stavamo divertendo con l'arco Oddio Aspetta come si fa Ecco Ci stavamo divertendo con l'arco Abbiamo notato questa cosa E quindi Mi è venuta in mente Quindi voi bimbi Se state vedendo questo video Quelli che stavano a scuola con me Se lo vedono Sanno quel che è successo Oddio Non so più buono Non so più buono Vai No Vai Vai Muore ragazzi Muore Fame Ok vediamo che cos'è Pozione della fame Prendiamole Ah devo morire con la pozione Ampolla di vetro Ok cosa sto facendo Fame Sto morendo di fame Oddio 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 ragazzi Sta morendo di fame Velocemente Che cazzo è Ma perde vita Per forza no Scusami eh Sì infatti Comincio a perdere vita Dai ragazzi Sono quasi morto Dopo Non so quanti minuti Che sto registrando Così Mamma mia Ah Finalmente Vaffanculo Sono morto Vaffanculo Ok Enderpearl Oh mio dio Quanti enderpearl Ah devo morire con l'enderpearl Sapete perché lo so Perché lo faccio sempre Io non so Il vero utilizzo Il vero scopo dell'enderpearl Cos'è qua Aspetta cos'è che bisogna fare Non ho letto No che merda Aspetta Oddio il cappellino Mamma mia Allora Cos'è che bisogna fare Pozioni Pozioni Forse è di nuovo Come quella di prima No Non c'è un cazzo Aspetta